ciao rietta come solito parcheggiata in libera sotto questa bellissima pineta allora cinque cose da non fare assolutamente quando sei in libera lasciare il gradino aperto lasciare i finestrini aperti non si può aprire il tendalino campeggiare con seggiolini tavolini e accendere i fuochi non si può scarichi di qualsiasi tipo non si fa e adesso prendiamo le bici e via faccio un giro il 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 un bel giro ci stiamo facendo chiamo Stamattina abbiamo deciso di farci un bellissimo giro, noi abbiamo parcheggiato il camper qua, attraverso questa addirittura andiamo a raggiungere il travestino che si porterà alla cittadina Barneare di Vignano, qua ci si imbarca anche con la bici e si paga un euro Sto servizio del traghetto con le bici è bellissimo, guarda ci sono i sedili, ogni posto ha uno spazio per incastrare la bicicletta e con un euro ti traghettano 25 persone alla volta, da una parte c'è Vignano sabbia d'oro e dall'altra c'è Bibione che sono due località bellissime, in mezzo alla natura, con tanta pineta, si respira e si gode proprio della natura, al 100% arrivati arrivati a Vignano in questo parco stupendo e c'è anche l'assistenza per chi rimane a piedi con la bici e per chi vuole noleggiarla non manca niente adesso pausa merenda con il formaggio grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E stanotte abbiamo dormito qui e adesso andiamo in spiaggia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.